Siamo qui con l'onorevole Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle per parlare di diverse iniziative. Partiamo dal fondo stanziato dal Ministero della Transizione Ecologica. Di cosa si tratta? È un fondo che interviene per abbattere i cambiamenti climatici, ridurre i cambiamenti climatici con delle misure che possono attuare i comuni. Innanzitutto Torre del Greco ha ricevuto 336.000 euro, può ricevere 336.000 euro da questa misura, deve progettare dei bandi che riducono l'impatto dei cambiamenti climatici. Faccio due esempi. Uno è quello della riforestazione, quindi nuove parchi, nuove piantumazioni nei territori comunali. E questa è una spinta che anche i nostri consiglieri comunali stanno facendo per aprire nuovi parchi in città. L'altra è quella su un annuso problema, per esempio sul Torre del Greco, che è quella degli alvei comunali. Se andate nelle zone dove ci sono questi alvi vedete innanzitutto un impatto di inquinamento che va verso le spiagge e verso il mare. Quindi si può intervenire per fare il riciclo dell'acqua, la depurazione, intervenire su queste aree che sono di proprietà comunale, recuperare l'acqua e addirittura poterle inserire in un circuito pulito agricolo. Queste sono le proposte che il Movimento 5 Stelle fa alla città. Ci aspettiamo che il Comune intervenga e utilizzi questi fondi. Un'opportunità per il Torre del Greco che è rappresentata anche dal punto di vista delle politiche sociali. Sì, c'è un'altra misura importante di questa settimana. È stata annunciata dal Vice Ministro all'Economia Castelli. Sono cambiati criteri di ripartizione ai comuni per le politiche sociali. La nostra regione, il Sud, sicuramente anche la nostra città ha subito per anni il criterio della spesa storica. Lo spiego a chi ci sta ascoltando. Se praticamente in un comune non hai un asilo nido, sei destinato a non avere soldi per gli asili nido. Così come per i centri per i disabili, così come per il trasporto, le case famiglia, gli interventi per la povertà minorile. Questo criterio è stato cammeato, è un successo del Movimento 5 Stelle e adesso si guardano ai bisogni essenziali. Cioè quali sono i problemi dei cittadini e in base a quelli si ripartiscono le risorse. Questo ci porta ad avere una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che arriveranno 440 mila euro in più. Quindi arriviamo a quasi un milione di euro per il Comune di Torre del Greco sulle politiche sociali. La cattiva notizia è che se oggi c'è questo incremento, significa che fino adesso i soldi sono stati spesi male e poco. Quindi sicuramente adesso ci sarà un monitoraggio. Quindi dovranno aumentare gli assistenti sociali, bisognerà intervenire su tutti i servizi non garantiti, ai disabili, al trasporto, ai minori a rischio, alle famiglie a rischio. E soprattutto aumentare la qualità. Io purtroppo ricevo dai cittadini tante segnalazioni di gestione negativa delle politiche sociali. Quindi il mio invito è a cambiare la qualità, a portare legalità in questo settore e fare in modo che chi ha veramente bisogno riceva come diritto un servizio e non come un piacere dalla politica. Grazie a tutti.